domenica mattina primo settembre dopo le 9 sul web sulle pagine facebook è scattata una ridda di commenti ed affermazioni sconscambi alle volte anche dai toni accesi sulla preapertura in deroga della stagione venatoria i colpi dei cacciatori fuori casa a partire dalle 5 30 si sono fatti sentire soprattutto nelle zone periferiche della città ovviamente nella quiete del mattino i colpi delle doppiette dei sovrapposti anche a distanza si sono avvertiti distintamente lasciando stare poi quelle irripetibili e scurrili le considerazioni sono state del tipo sembra di essere in guerra o svegliarsi con le fucilate sotto casa che gioia oppure alle schioppettate preferisco il cinguettio degli uccelli ma a queste diciamo folcloristiche sono montate anche parallelamente le polemiche sulla decisione della regione Marche di emettere una nuova delibera di giunta per consentire la preapertura nonostante il tar Marche avesse accolto il ricorso cautelare delle associazioni ambientaliste ed animaliste aggirandone di fatto la disposizione e consentendo così la preapertura da domenica primo settembre la legge nazionale prevede la compartecipazione delle associazioni venatorie agricole e ambientaliste alla gestione della caccia la regione Marche ignora e discrimina le associazioni ambientaliste fa provvedimenti ad esclusivo vantaggio delle associazioni venatorie è stata fatta una legge per cui viene abolita la tassa regionale per i giovani che per la prima volta prendono la licenza di caccia quindi sono provvedimenti mirati a favorire qualcuno e non a fare una corretta gestione come prevede l'impostazione della legge nazionale le associazioni inoltre denunciano un forte sbilanciamento tra controllori e controllati un rapporto praticamente inesistente a tutto vantaggio dicono le associazioni dei cacciatori a fronte di una quantità di cacciatori che dovrebbe essere girarsi sulle 10.000 unità ci sono le guardie volontarie che però ad esempio nel caso della preapertura come nella giornata di ieri non sono stati in grado di fare vigilanza perché abbiamo portato i decreti per il rinnovo però non ce li hanno ancora riconsignati dopo circa due mesi e mezzo questa è una cosa assolutamente grave c'è un vuoto nella vigilanza e quindi questo fa sì che di fatto chi va a caccia oggi può fare praticamente quello che vuole ovviamente di parere opposto la federcaccia che rivendica invece la giustezza della preapertura che viene applicata in diverse regioni italiane e solo per un numero ben limitato di specie domenica è stata fatta la preapertura della caccia solo a pochissimi selvatici in deroga per salvaguardare le culture agricole credo che si sia svolta nel rispetto delle regole senza incidenti la legge nazionale consente per alcuni selvatici di anticipare la apertura della caccia di 15 giorni circa abbiamo invitato i nostri cacciatori al rispetto delle regole voglio ricordare che le distanze dalle case sono 100 metri di spalle o in qualsiasi altra posizione tranne che allora quando si spara contro un immobile una casa o una strada la distanza è portata dalla legge nazionale a 150 metri grazie a tutti grazie a tutti